il sergente flanagan si trova ad indagare su un caso davvero intricato un serial killer sta prendendo la vita di una serie di uomini pugnalandoli con un coltello e lasciando sul luogo del delitto una bomba a mano che si rivela finta il mio voto a questo film è 7 ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto mi sono piaciute molto le scene del film l'interpretazione della sceneggiatura e di genere giallo la durata è 88 minuti il regista è alfonso brescia la regia è buona bravo regista l'attrice florence guerin brava attrice nel film anche andrea cagliesi david des federica belfiore wendy windham sonia topazio brian wayne peterson joseph misiti l'attore del film è lo stesso attore che ha fatto il film la casa sperduta nel parco saluto alessandro bidone kevin gigi samobrina cita aliciotola marcolf mariuccia pia magellan ilaria ilario domenico leo tassoni peter team bulluni ivan drago e telefein 122 mister bike tv michele traigiani favij picchiatore guardate questo video lasciate dei commenti lasciate dei like iscrivetevi al canale seguitemi su instagram arrivederci al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto saluto festival anche